Due ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri della stazione di Appignano, collaborati dai colleghi di Cingoli e di Apiro nei confronti di due ventenni, già conosciuti alle cronache per spaccio di stupefacenti. Si tratta di un'operazione iniziata a novembre 2018, a cui i militari hanno dato il nome di piccola paranza, che ha permesso di smantellare un reticolo di giovanissimi acquirenti anche minorenni. Non meno di 130 le cessioni per oltre 1,7 kg di sostanze con un movimento di denaro di almeno 13.000 euro. Sì, questa notte i carabinieri di Appignano, collaborati dai colleghi di Cingoli e di Apiro, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due giovani del posto, i quali sono stati indagati per traffico di sostanze stupefacenti. Gli stessi hanno gestito un giro di droga, parliamo di marijuana e hashish, per complessivi 13.000 euro. L'operazione l'abbiamo chiamata piccola paranza per la giovanità delle persone coinvolte, sia come attori del traffico di droga, ma anche come ragazzi coinvolti nell'acquisto della droga. Il target era indirizzato essenzialmente a ragazzi di giovane età, anche minorenni, che frequentano istituti scolastici tra la provincia di Macerata e la provincia di Ancona. Come dicevo prima, si tratta del terminale, è una piccola organizzazione, un terminale, però l'importanza sta nel fatto che abbiamo interrotto la vendita di sostanze stupefacenti nei confronti di ragazzi che per la prima volta venivano avvicinati e accostati all'uso della sostanza stupefacenti. Quindi l'importanza sta nell'interrompere un rifornimento nei confronti di chi magari non aveva mai usato sostanze stupefacenti e per la prima volta veniva indotto a farne uso. Sappiamo bene che fidelizzare questi ragazzi così giovani può provocare poi nel futuro conseguenze negative nei loro confronti e nelle loro famiglie. Quindi è un obiettivo che ci siamo prefissati, continueremo con le nostre stazioni a monitorare gli istituti scolastici proprio per evitare che questo spaccio, considerato di minore importanza, ma non lo è, si interrompa nei confronti dei giovani ragazzi in modo che non vengano avviate all'utilizzo di sostanze stupefacenti.